Come quella che ha fatto al Papa, guarda, l'ha fatto a Londra, che dentro in questo posto, a Londra, tanta stima e tanta salute. Spiegare che come una persona nasce da niente, non da dietro. La sua, la difficile dice, ruota squadra. Buona leggenda. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, tu, tu hai la finita. Buongiorno.